E' un giocatore che è sempre piaciuto in questi anni che l'abbiamo visto un po' a Milano. Te uguale mi hai detto che a me è un giocatore che piaceva, è molto intenso, è duro. Mi piace anche quel signore che subito... E' lui! Mi sembra che Drew Gordon abbia schiacciato. Bella è difficile, non era facile anche per una tratta... Cercherà di rinforzare i tempi, l'Alba Berlino dopo un contropiede primario, cercherà invece di addormentare la partita. Ha giocato tantissimi anni, mentre ancora un pallone con i fiocchi per Drew Gordon, che sacca il suo sesto punto. Per toccare il gioco della Dinamo. Intanto ancora Gordon, che correzze, tra virgolette. L'Alba è arrivata prima anche nel giro nel minatorio, davanti a Gravelina e Saragozza. Nello stesso girone c'è saltato la gara di... Mentre Chessa colpisce da tre punti. Massimo Chessa. Iagla, questo per la formazione ospite per la Dinamo. Entrato in campo Manuel Vanuzzo, mi è parso. Per prenderla a schiacciare, ma Gordon... Ancora Vanuzzo da tre! E qua entra definitivamente in partita. Alla fine il rimbalzo è di Drake Diner, innesca subito Travis. Pallone sotto per Gordon! A rimorchio! In chieda l'ha schiacciato, a doppia cifra. In campo nei Panamericani e anche nei Mondiali con Canada! L'abbiamo chiamato Travis Diner. Finalmente ci ha contentato. Per la Dinamo, invece per gli ospiti, mentre Caleb Green solita gira a volta e riesce a trovare il suo settimo punto con la Dinamo che si riporta. Nella canestra, Mandrake, vediamo. Alla fine, Tino, un allontanamento importante a questo canestro perché Drake del sé prende confidenza. Omar Thomas attacca il suo diretto avversario, prova la conclusione, riesce a realizzare solo i quattro punti per lui. Ti fa capire l'impatto veramente del capitano. Vediamo l'impatto di Caleb Green! Che ti ha sentito, ha detto, insomma, bisogna che anch'io... Limiti del fallo! E per la formazione ospite diventano più tre perché Vanuzio realizza la sua, per cento da due, il 39 da tre, tira su entrambi i fronti. Mentre il bellissimo layout di Marquez Green, due punti per Marquez... La Dinamo... Se la sono... Se la sono persa in due, però... Travis Deiner, sesto punto, la Dinamo dal meno sedicato perché, insomma, c'è la possibilità di andare a meno undici. Si, realizza da due punti Travis Deiner, sono otto i punti per lui, si è svegliato un po' Drew Gordon, penetrazione di Drake, il sottomano... Il ventano di Radunsevic. E ancora Drake Deiner, il lay-up a fretta i tempi di Radina. Sono un po' troppi, eh? Ancora Travis Deiner, pallone per Caleb Green, che realizza! Va sotto la doppia cifra, il vantaggio dell'Alba Berlino. Grazie a tutti!